Alessandra Mauro, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta qui nel posto delle parole per farci incontrare Le Molte Vite di Lee Miller, il titolo del libro scritto da Anthony Penrose e pubblicato dalla casa editrice Contrasto. E adesso insieme con Alessandra Mauro, direttore editoriale per l'appunto di Contrasto di questa casa editrice, noi andiamo a scoprire questa vita, scoprire ma non del tutto perché andiamo per suggestioni ma non solo e lo lasciamo scoprire i nostri ascoltatori, i prossimi lettori. Partiamo subito, Alessandra Mauro, da quello che scrive lo scrittore, fotografo, scultore e saggista Anthony Penrose, il figlio di Lee Miller. Scrivere questa biografia è stato talvolta come partecipare a un'elaborata caccia al tesoro, escogitata da lì in uno dei suoi momenti più beffardi. Ecco, questo mi sembra veramente un momento importante per capire lo spirito con cui Anthony Penrose si è avvicinato alla biografia della madre. Sì, infatti, è veramente come se lei avesse creato una sorta di caccia al tesoro, inconsapevolmente, forse, chi lo sa, ai danni del figlio, per così dire. Perché la vita incredibile di Lee Miller, anzi le molte vite di Lee Miller, come appunto recita il titolo del libro, ci raccontano di una ragazza molto bella, si vede in copertina uno sguardo particolarmente magnetico, bello, distante, ma anche pieno di sofferenza, nata in America nei primi del Novecento, diventata molto presto, casualmente, una grande modella, la prima modella di Vogue, e quindi una nuova immagine della donna disegnata su di lei. Poi è voluta andare dall'altra parte dell'obiettivo, diventata fotografa, un lungo periodo a Perigi con Marrei, e poi dopo una tornata in America ancora come fotografa, poi ha avuto una pausa dal lavoro fotografico sposandosi un egiziano, quindi un lungo periodo in Egitto, poi è tornata, insomma, tantissime cose, tantissime fotografie, tantissime immagini, una vita molto intensa, corrispondente di guerra per Vogue, quindi l'apertura dei campi di concentramento, ad esempio, e poi di nuovo una nuova identità come casalinga, borghese di lusso, intellettuale a Londra, in cui diventa una cuoca sopraffina, insomma, tutte queste diverse vite sono state in parte taciute al figlio. Quest'unico figlio, Anthony, nasce e cresce con appunto un papà che è uno dei più grandi intellettuali e artisti inglesi, una mamma appunto con grandi depressioni, ma anche poi con un grande amore per la cucina, ma tutto il passato di fotografa, di modella, di tantissime immagini realizzate era ben chiuso nelle soffitte della loro casa, era come se fosse stato un passato a cui lei non voleva più pensare per niente e soltanto dopo la morta della madre il figlio scopre tutti questi grandi tesori e quindi proprio esattamente come in una caccia al tesoro ricostruisce in questo libro la vita della madre, tant'è vero che poi il volume è infarcito anche di piccole citazioni, piccoli racconti, perché si capisce che Anthony appunto è andato in giro cercando gli amici della mamma, che poi erano amici illustri, voglio dire, appunto da Picasso a Man Ray, ad altri grandi artisti e quindi cercando di recuperare anche dalla voce di loro, così come della famiglia, le impressioni, i momenti e ricostruire quello che è stata la vita di una donna. Quindi in questo libro abbiamo sicuramente le molte vite di Lee Miller, ma anche appunto in controluce il rapporto complesso tra un figlio e una madre e la vita della madre ricostruita, ricucita, pezzettino per pezzettino appunto dal figlio. E questa madre che già da piccola aveva questa passione per la fotografia, per mettersi davanti all'obiettivo, passione che ha avuto dal padre e poi questa passione piano piano l'ha portata avanti studiando anche le tecniche e poi ha fatto il salto dalla macchina fotografica. Lei fotografa e è diventata invece oggetto di fotografia. Ma l'infanzia di questa donna è un'infanzia veramente triste perché nonostante il padre l'avesse passato questa grande passione per la fotografia, ma non c'è solamente quello, venne affidata poi ad un'altra famiglia quando la madre venne ricoverata e qui cominciano i dolori per lì. E qui sì, perché purtroppo a sconvolgere l'infanzia, ma poi purtroppo anche, mi avrebbe da dire, tutta la vita di questa donna, c'è una violenza, una violenza che lei subisce quando è ancora una bambina e che poi le porta degli strascichi per tutta la vita, degli strascichi di salute molto molto seri per tutta la vita, contrae purtroppo la gonorrea. E questo ovviamente segna in un modo indelebile quello che poi sarà il suo rapporto con l'altro sesso, con la sua fisicità, con il suo erotismo in un modo molto forte. È un episodio oscuro della vita di Lee Miller su cui fino in fondo non si è mai capito chi fosse poi la persona, probabilmente un amico di passaggio della famiglia dove lei momentaneamente era appoggiata perché appunto la mamma era ricoverata in clinica, probabilmente in questo, però appunto è stato senz'altro un fatto molto molto duro e che per così dire ha abituato questa donna estremamente curiosa, ma anche sempre un po' insoddisfatta di se stessa, del mondo e di quello che viveva, l'ha un po' abituata appunto a un fondo di tristezza che probabilmente è un punto ricorrente in tutte le sue tante vite, in tutte le sue storie, in tutte le sue amicizie e appunto in tutta la sua esistenza, che dà anche un fondo, voglio dire, anche molto interessante poi per noi oggi che vediamo attraverso i suoi occhi il Novecento, però certamente deve essere stata una tragedia terribile per lei. E poi voltando pagina, oltre alla tragedia, venne il giorno in cui diventò, diventa modella, perché il destino ha attraversato, per così dire, il suo sguardo, anche se lei diceva che preferiva fare una foto piuttosto di essere una foto, ma da qui comincia il suo percorso nel cosiddetto rutilante mondo della moda, grazie a Condenast. Sì, infatti, è stato poi un momento furtuito, veramente incredibile, perché questa bella ragazza camminava per il centro di Manhattan e a un certo punto, attraversando la strada, una macchina ha rischiato di investirla, ha rischiato di investirla, ma non l'ha investita, perché un uomo l'ha trattenuta all'ultimo momento, l'ha fermata, l'ha fermata da attraversare all'ultimo momento e quest'uomo era appunto Condenast, il grande editore, che rimane colpito, senz'altro dalla sua bellezza, dalla sua avvenenza, ma anche dalla sua proprietà di linguaggio, anche dalla conoscenza delle lingue, che non è una cosa così usuale per le ragazze americane dell'epoca, ma tutto sommato anche adesso. Per cui lei, ad esempio, che era già stata a Parigi tanto tempo, Lee Miller, in questo momento, in questo incontro fortuito per la strada, subito dopo reagisce con una parola in francese, tipo mon dieu, pas bleu, una cosa del genere, da cui Condenast capisce che lei parla bene francese, comincia a conoscerla e rimane affascinato da lei, ripeto, dalla sua avvenenza senza dubbio, ma anche dalla sua profondità, e quindi le propone di lavorare per Vogue. E sarà lei, con questo suo sguardo intenso e anche un po' malinconico, questa sua bellezza anche nuova, con i capelli corti, con una sensualità prorompente, ma anche molto consapevole, ad essere la nuova donna, la nuova donna proposta dalle pagine di Vogue. È la prima copertina in cui si vede una donna ed è disegnata, perché a quel tempo le copertine di Vogue non erano disegnate, si considerava non particolarmente elegante, non erano fotografate, si considerava non particolarmente elegante mettere una fotografia in copertina all'epoca, quindi la copertina ha un disegno che è rifatto su una fotografia e la fotografia è quella appunto un ritratto di Lee Miller. Ci saranno tantissimi servizi interni, più grandi fotografi che la fotograferanno, può andare anche in copertina di Vogue e di tantissime altre riviste, ma ecco, quell'immagine, quel disegno che riproduce questi bellissimi occhi azzurri, grandi, con un cappello tipicamente anni 20, ecco, quello è proprio l'inizio della carriera di modella di Lee Miller, ma anche appunto dell'affermarsi di una nuova donna, la donna del Novecento. e le immagini accompagnano la sua vita, immagini di moda, ma non solo, l'incontro per esempio di Man Ray è un altro accompagnamento di fotografie, perché se pensiamo alle immagini solarizzate di Man Ray, sicuramente dobbiamo pensare a Lee Miller e ho sempre pensato, magari sbagliando, che Man Ray sicuramente ha avuto molto dal punto di vista tecnico-artistico, ma anche perché ha incontrato Lee Miller. Sì, certamente, non era, lui è stato il mentore all'inizio per quanto riguarda la fotografia per Lee Miller, ma poi Lee Miller era sicuramente una brava discepola, ma non era mai soltanto una discepola e quindi il rapporto era senz'altro molto intenso ed era proprio anche di dare e avere, proprio perché lei aveva una capacità, un sentire proprio alla realtà, anche quello che potevano essere le nuove istanze culturali, intellettuali, molto, molto forti e quindi sicuramente nel lavoro fotografico di Man Ray l'influenza di Lee Miller era molto forte, a parte che appunto si dice che anche le immagini solarizzate di Man Ray fossero, diciamo, di nuovo un'invenzione casuale fatta insieme a Lee Miller, se non addirittura provocata da Lee Miller ma insomma sarà in ogni caso molto intenso e molto importante il rapporto tra i due e per i due e poi a un certo punto Lee Miller come sempre appunto non si accontentava mai di essere un'unica cosa quindi non si accontentava mai di essere la compagna, l'amica, la confidente, la collega di Man Ray apre anche uno studio per conto suo che porta avanti a Parigi quindi lavora sia con Man Ray nel suo studio ma sia per conto suo anche con i suoi clienti finché poi alla fine non deciderà di tornare in America e di lasciare Man Ray di cominciare appunto un nuovo capitolo della sua vita e Man Ray avrà il cuore infranto per molto tempo da questo abbandono poi dopo i due col tempo recupereranno un grande rapporto saranno molto amici e Man Ray sarà un grande frequentatore della casa inglese di Lee Miller dove Lee Miller abitava con il marito Roger Penrose ma senza dubbio è stato un rapporto molto importante devo dire per Lee Miller ma anche per Man Ray torniamo Alessandra Mauro sulla sua sulla donna icona del mondo della moda le ha già detto della sua bellezza molto particolare a quel tempo portare i capelli corti era qualche cosa di estremamente originale e anche molto particolare forse nemmeno tanto ben visto ma quanto di quell'essere modella Alessandra Mauro oggi può essere rimasto nelle modelle che vediamo sulle cosiddette riviste patinate ammesso che esistano ancora ma io penso che sia proprio una una consapevolezza di se stessi e del proprio corpo un'idea di poter essere loro la modella per prima a giocare con il proprio corpo no? delle volte abbiamo questi esempi io penso alla storia della fotografia perché poi è da lì che provengo insomma ma anche nel mondo della moda della fotografia di moda ci sono delle modelle dove è evidente che il rapporto con il fotografo è un rapporto giocato quasi alla pari come se fosse una partita di ping pong o di tennis in cui sicuramente il fotografo dà delle indicazioni alla modella ma sicuramente anche la modella che decide come muoversi come stare come proprio la postura come giocare consapevolmente col suo stesso corpo ecco io penso che Lee Miller abbia questo moltissimo cioè noi ci rendiamo conto che le diverse fotografie che ce la raccontano che ce la mostrano sono fotografie di Murray come la foto in copertina di Edward Steichen o di tutti gli altri grandi fotografi con cui lei ha lavorato ma sono anche fotografie di Lee Miller profondamente di Lee Miller ecco io credo che sia proprio questo gioco consapevole una delle caratteristiche forse di tante modelle anche di adesso che appunto sono un po' diverse diciamo dallo stereotipo della modella della modella di un tempo perché appunto possono lavorare con consapevolezza sull'immagine di loro stesse e adesso vorrei toccare Alessandra Mauro il tema della realizzazione fotografica da parte di Lee Miller che non ha che anche qui ha superato diversi ostacoli uno sguardo veramente molto plurale potremmo dire grande angolare spaziando da una parte all'altra e sono soprattutto ad esempio le foto di guerra che possono apparire ben lontane dal suo mondo e invece lei le racconta nella sua nella sua definizione rigorosamente in bianco nero ma con una capacità di narrazione straordinaria sì è una capacità di narrazione straordinaria anche forse un po' differente da quello che poteva essere la modalità tipica del fotogiornalismo con cui si raccontava la guerra si vede moltissimo nelle sue immagini una matrice surrealista si vede che lei non nasce come fotogiornalista ma nasce attraverso la moda la moda è sempre stata la fotografia di moda un settore in cui tutte le innovazioni tecniche stidistiche proprio arrivavano tantissimo proprio perché c'era una necessità anche di inventare sempre qualche cosa di nuovo sia da un punto di vista tecnico che appunto di stile per cui questo è molto evidente da una parte e poi la matrice surrealista agli anni passati a fianco di Marrei e degli altri surrealisti in questa idea anche di riuscire a vedere la realtà in modo un po' differente un po' un po' straniato di prendere degli oggetti delle cose e astrarli per così dire da un flusso quotidiano di informazione è molto importante ed è molto forte nelle sue immagini di guerra quindi ad esempio anche le foto che noi abbiamo che lei realizza del blitz di Londra sono delle immagini particolari sono ad esempio degli ecco degli still life che lei trova per la strada di Londra con una macchina fotografica rotta oppure una statua buttata in terra così e che lei però fotografa in un modo che poi diventano immediatamente non solo il racconto di quello che è accaduto ma anche un po' il simbolo di una città e di un paese in guerra tutto questo poi ancora di più ovviamente quando poi arriviamo alle foto pazzesche terribili ma anche appunto da altre parti straordinarie realizzate all'apertura dei campi di concentramento le sarà Dachau e appunto le fotografie che realizza sono sconvolgenti sono molto forti forse sono foto che così forti un'altra un fotogiornalista o una fotogiornalista normale non avrebbe fatto a quel livello non sarebbe arrivata così vicino ai cadaveri ma che lei lo fa proprio perché l'allucinazione di quel che vede lo fa suo e lo fa diventare fotografia e a proposito di fotografia Alessandra Mauro lei ci può estrarre un'immagine fotografica da questo libro Le molte vite di Lee Miller e farcela vedere con parole sue quale sceglie? e dunque questo è un compito molto difficile devo dire io però sceglierei le foto dei campi di concentramento sono sicuramente molto forti ma forse sceglierei una foto del suo viso forse una foto che non è realizzata da lei ma in cui lei c'è c'è ad esempio una foto molto bella in cui lei ha una torsione del viso si vede in primo piano si vede il collo di Lee Miller questo collo molto molto bello quasi da cigno con il viso a tre quarti seduta su una sedia sdraio? no 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 c'è proprio questo si vede soltanto il collo un pochino il viso e i capelli allora è un tipo di ritratto estremamente strano estremamente particolare fatto da Man Ray ma dove secondo me il lavoro intorno al corpo intorno anche al movimento è senz'altro frutto della della sintonia delle due persone insieme cioè lei è contemporaneamente modella e contemporaneamente interprete e realizzatrice dell'immagine e la cosa particolare è che questo stesso collo di Lee Miller diventa poi parte di un quadro che Man Ray fa in cui Man Ray ridipinge il collo di Lee Miller quindi ridipinge il viso di Lee Miller in un ritratto che appunto in realtà è quasi un movimento brusco sembrerebbe se non fosse poi in realtà attentamente studiato e realizzato e diventa parte di un quadro di Lee Miller di Man Ray che si chiama Le luci dell'artista del 1931 quindi ci sono questi diversi passaggi ecco per questo mi piace questa foto però questa fotografia è stata anche oggetto di tensione da parte di Man Ray perché a lui non piaceva questa fotografia getta via il negativo lì la recupera la lastra la sviluppa con cura e la migliora e la perfeziona fino a quando non è soddisfatta quindi è vero che lo scatto è di Man Ray però la parte per così dire potremmo dire di post produzione oggi è tutto a merito di Lee Miller esatto esattamente questo era quello che volevo dire ed è esattamente questo proprio per questo mi piace questa foto innanzitutto perché è un ritratto molto poco convenzionale tutti quanti se devono fare un ritratto a una bella donna così la mettono davanti che guardi in macchina tranquilla ma invece questo scatto questa torzione del busso e quindi del collo è estremamente raro e poi appunto c'è tutto questo lavoro dietro c'è un lavoro dietro sul realizzare la foto sul riprendere la foto sul rilavorarlo e sul continuare a tenerla come immagine al punto da poter diventare parte di qualche altra immagine ecco trovo che sia tutto questo questo insieme per così dire anche quasi di scatole cinesi un'immagine che diventa un'immagine che diventa un'altra immagine penso che sia molto rappresentativo di Lee Miller e del suo lavoro Le Molte Vite di Lee Miller pubblicato da Contrasto e scritto da Anthony Penrose ma prima di salutarci Alessandra Mauro qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? in questi giorni mi fa compagnia un libro di a parte i libri che mi fanno compagnia sono quelli su cui sto lavorando e che usciranno a breve e questo sicuramente ma poi è un libro di James Hillman insomma trovo che ogni tanto ritornare all'anima non fa male vero? bravo ritornare all'anima non fa male non bisogna mai allontanarci si troppe James Hillman straordinario auscultatore dell'anima il codice dell'anima lo ricordiamo è uno dei suoi libri più importanti come come tanti altri presenza animali e così via grazie davvero Alessandra Mauro per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro con i libri grazie a presto grazie grazie a tutti